Una riflessione non convenzionale sul contemporaneo attraverso una serie di appuntamenti di qualità. Tutto pronto all'Università di Salerno per la rassegna sud fra teatro, musica, cinema, arte e danza. Uno spettacolo che si propone di raccontare le storie tipiche non soltanto dell'urbanitas napoletana ma anche tipiche proprio del sud attraverso un linguaggio molto leggero che è quello tipico di Massimo Andrei che è autore e rielaboratore del testo, regista e ovviamente il nostro capocomico. Io sarò la sirena Leucosia quindi da me aspettatevi tanta musica. Viaggio attraverso la creatività e la produzione culturale del sud e questo non per rivendicare un'identità forte e chiusa ma al contrario per mostrare come ciò che di specifico, di proprio è sud è un multiplo, è un molti in cui si addensano culture, saperi, usi diversi. Abbiamo investito e stiamo investendo molto sul contemporaneo, offrire ai nostri studenti innanzitutto e poi ovviamente anche alla nostra comunità l'opportunità di fare una riflessione seria su tutto quello che ci circonda a partire da quella che è la realtà più prossima. In questo senso è stata immaginata questa rassegna sud che lo vuole guardare in maniera con degli occhi che non siano diciamo convenzionali e con diverse prospettive.